Dormo sull'erbo Oggi parliamo di un progetto dedicato alle etichette indipendenti discografiche Lo facciamo con il direttore artistico di Push Up, così si chiama il progetto, Elvis Ceglie, benvenuto Ciao Valentina, come stai? Bene, grazie, anzi malissimo Nell'inverno incombe e la voce manca Allora Elvis, parliamo innanzitutto di questa idea Push Up, si rivolge alle etichette indipendenti discografiche Come nasce il progetto? Allora, il progetto nasce da un bando che l'Anci, Associazione Nazionale Comune Italiani Ha deciso di istituire per finanziare progetti appunto di sostegno alla discografia indipendente All'etichetta indipendente musicale italiane Tra questi progetti, tra i tanti progetti convenuti, uno di quelli selezionati appunto Push Up, che è un progetto scritto da me e altri due ragazzi di Bari, della provincia di Bari Che sono Marco Valente e Giordano Campalani È presentato attraverso il Comune di Biceglie Quindi il Comune di Biceglie si è fatto a portatore di questa iniziativa E sposandola è riuscita a farla concretizzare Che cosa consiste Push Up? È il primo... Ti fai una domanda, ti rispondi Mi rispondo da... Bravo È il primo concorso nazionale per etichette, non per artisti emergenti Tu sei la differenza Valentina Fondamentalmente si tratta non più di incentrare un concorso sul talento e sull'estro creativo Ma di investire su quella parte dell'industria musicale Che l'avvicina appunto al mondo del commercio, al mercato Quindi l'etichetta che oltre a foraggiare quello che è l'artista Lo porta poi a fare il disco vero e proprio Quindi insomma a quel gruppo di persone che dietro alle quinte si mostrano coraggiosi di credere in piccoli progetti A volte anche particolari Sì, spesso e volentieri si tratta comunque di musica che difficilmente accederebbe ai canali diciamo mainstream Come vengono detti il più delle volte Bisogna anche dire che però tra la musica indipendente si nascondono spesso e volentieri Degli artisti di potenziale successo anche per il pubblico più vasto Ci sono degli esempi, per esempio la Sugar L'etichetta di Caterina Caselli Può considerarsi un'etichetta indipendente in quanto non appartiene a nessuna corporazione major E ha sfornato talenti del calibro di Elisa, di Negramaro eccetera eccetera Ma ci sono anche esempi molto più diciamo per gli intellettuali più di nicchia che di musica Comunque leggera d'autore che spesso e volentieri non arriva al circuito delle radio, al circuito delle pubblicità E quindi non viene notata per lo più dal grande pubblico Quindi a quali però etichette è rivolto Push Up Se appunto nazionale o legato insomma ai limiti territoriali della Puglia o addirittura locali Push Up è rivolto a tutte le etichette indipendenti che hanno sede in Italia Quindi si tratta di un concorso nazionale E questo ci inorgoglisce perché la Puglia ancora una volta si sta rimostrando pioniera nell'investimento da parte delle istituzioni sulla creatività giovanile Esistono altri? Di concorsi come questo? Credo di no Di solito appunto come ti dicevo sono incentrati sull'artista Oppure portano una peculiarità appunto che ha Push Up A differenza di altri progetti che portano a un contratto discografico con un'etichetta del concorso stesso Noi cerchiamo di non sostituirci all'etichetta Anzi invece di incoraggiarne l'audacia, lo scouting, l'interprendenza finanziandone l'attività Elvis noi chiaramente essendo di Telebari ci rivolgiamo alle etichette locali Quante ce ne sono? Hai già fatto un'indagine di mercato? In Puglia ci sono una cinquantina di etichette di vario genere Chiaramente si va dal jazz qui appunto nel Barese, al reggae, nel Salentino, etichette di metal, anche etichette di elettronica Ma sono una cinquantina circa che attivamente producono almeno un disco all'anno Ora, come si svolgerà il contest? Andiamo nel vivo del progetto Allora, da dicembre su internet sul sito www.biscegliepushup.com è disponibile il bando Bando che scadrà il 18 febbraio e che richiede appunto l'etichetta di presentare un progetto di pubblicazione Quindi si presenta l'etichetta con i dati e i brani di un album di prossima pubblicazione E una giuria di natura locale, una direzione locale di giurati Seleziona otto finalisti che con la loro etichetta, quindi sia il gruppo che i manager e appunto i produttori Andranno a Biceglie 8, 9 e 10 aprile per la selezione finale Al termine del quale una giuria invece di qualità nazionale che comprende giornalisti RAI E giornalisti di MTV e produttori artistici di grande importanza Seleziona un unico progetto vincitore di una borsa in premio di circa 16.000 euro Da sfruttare per promozione, quindi acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di videoclip Per la produzione in senso stretto, quindi portare il disco in stampa E per l'allestimento di un tour di almeno 10 date in giro per la nazione Bene, quindi questo è il premio in paglio Non mi sembra tantissimo per tutte le possibili cose da fare Però non mi sembra neanche così poco, 16.000 euro per una piccola etichetta sono soldi Quindi per partecipare ricordiamo il bando di concorso dove poterlo scaricare E in bocca al lupo a tutte le etichette Allora su www.bicegliepushup.com E io ribadisco l'invito alle etichette pugliesi perché la partecipazione da parte dell'ente regionale Puglia Sounds Ha messo a disposizione un ulteriore premio per le sole candidate pugliesi Di 5.000 euro da spendere appunto come i precedenti in promozione Quindi per le etichette pugliesi che anche non arrivassero in finale o non vincessero il premio nazionale C'è comunque la possibilità di avere una somma con cui cercare di raggiungere il mercato nazionale Bene, complimenti anche a te Elvis Grazie